Ma i più italiani, che erano questi militari, c'erano più una ramositelli, e poi erano qui nel gruppo scuolato, e si faceva che tutti i paesani qui hanno piattato l'arma in campagna, e i soldati qua su, ci sono rotte, e i comandi hanno piattato l'arma qua là. E si dice che erano due armi, i cittadini che erano andati in 30, in 31, hanno 10, 11 anni, si avevano già sevesse l'arma, e ovviamente andarono qua là e tirarono qualche volta. E qui c'era un cucinario, un italiano cucinario, quello che aveva fuori a fare i regni, e sentì a tirare i cittadini, e un giorno i cittadini hanno deciso di un ballo. Allora i cittadini, uno si apriva il calzone, l'altro si apriva l'ambra, l'altro si apriva l'ombasto, e fatti che hanno deciso. E allora l'hanno deciso, hanno tirato il primo provato, e c'era un capragio, un buon Mertino Guerini, ha i capragli questi, e si è fatto uscente con ciò, attenzione, per lasciarmi questi cappiati. I cittadini sono scappati, sono giunti in paese, e noi ci siamo affancati, e dopo un'altra liberazione è stata finita, su cucinario per cittadini, e io le ragazze li sentivano quando sbaravano, ma io non ho detto niente, è una volta di essersi, e ogni anno c'era un parente a me, e poi sono qui ci davano a me, e poi c'era un battito, i mainetti, e non si era andato in trenta, e c'era la guardia, c'era la guardia, quello che aveva fatto è un muschettone così, e quello è passato, ha una cittadina, e poi vado a dire a due cose, un urlio di un muschettone, ci vado a dire, attenti a un ragazzo, attenti a un ragazzo, e erano un pistare di segiri. Grazie.